buongiorno a tutti qui è sempre di uno schianato da yearforex.com e in questo video voglio mostrare tre esempi di come avere delle conferme di trading con la price action quando ci troviamo di fronte per esempio a delle pin bar reversal allora partiamo da questo grafico anzi resteremo su questo grafico questo qui è il cambio australia sul dollaro americano che mostra tre pin bar reversal non tutte e tre sono su dei livelli particolarmente interessanti e infatti vedremo come quelle che sono su livello interessante poi creano la possibilità di fare un profitto mentre quella che non ha per esempio la giusta impostazione la giusta contestualizzazione poi andrebbe a stop ma voglio farvi vedere come le conferme possono darci una mano nell'entrare meglio e magari non entrare allora guardate vi faccio vedere una cosa intanto questo è un'area benissimo ci siamo di fronte a tre di queste pin bar reversal che sono questa sono questa e sono questa ok prendiamo queste tre pin bar reversal lasciamo stare l'analisi di price action quindi la contestualizzazione dove vedremo come questa pin bar reversal e questa pin bar reversal hanno le caratteristiche che da tempo spiego per avere diciamo per essere una pin bar realmente tradabile questa qui in realtà non ha tutte le caratteristiche e poi oltre al fatto di non avere tutte le caratteristiche proprio di di bugia e di falso movimento arrivava da una grandissima volatilità rialzista e noi sappiamo che la volatilità è molto importante sul mercato ed è anzi una delle caratteristiche fondamentali del mio studio della struttura dei prezzi per fare appunto nel mio trading ma detto questo vorrei farvi vedere come con le conferme a quattro ore si poteva tradare guardate in questo caso noi abbiamo questa pin bar che si viene a creare ecco qua quindi beh vi faccio vedere già i quattro ore che mi sono preparato eccolo qua allora la prima pin bar subito dopo la prima pin bar che trovate abbiamo trovato sul daily i giorni successivi quindi il giorno successivo sfoga ribasso non totalmente tanto da non dover non poter più cercare dei segnali in questo caso eccola qui la dinamica short principalmente questa quindi recupero del mercato in ritracciamento abbassamento della volatilità e poi boom un aumento molto chiaro della volatilità ribasso eccolo qui con conferma di doppio massimo lower che ci conferma la possibilità di entrare a mercato quindi di entrare direttamente break con stop sopra i massimi eccolo qua e andare poi a gestire la posizione con un target profi sui nostri target di estensione e sui livelli o comunque andare a trailare nel caso in cui poi il mercato faccia swing quindi il primo swing se io vado a avere un'impostazione di stop qui e non ho preso il target che magari il target ce l'avevo qui vedete questo qui questo è il primo swing questo è il secondo sposterò il mio stop sul secondo swing cioè l'ultimo il mercato sale verso qua e io vengo respinto e buttato fuori ma portando a casa comunque un risk reward di 1 a 2 la seconda posizione che sarebbe questa pin bar che trovate qui sotto questa quindi che inizialmente spara giù e poi riparte si poteva sempre anche qui con una conferma del grafico a quattro ore assolutamente fare un entry veramente interessante guardate qua abbiamo avuto questa che è la pin bar poi il giorno successivo c'è stato il ribasso guardate qua boom eccolo qua inside aumento della volatilità e il mattino ci troviamo per questo qua poi è la barra dalle 5 alle 9 ci troviamo con la possibilità di entrare oa mercato oppure a breakout quindi entrando in questo modo quindi aumento della volatilità conferma di long swing su creatore quindi vado a impostarlo qui lo stop e poi mercato che tra l'altro guardate ci fa un movimento molto forte al rialzo e quindi anche qui o avevamo già un target questo non è topic del target ma comunque si poteva poi alla fine quando c'era il l'ultimo swing questo qui spostare lo stop qui e poi nel momento in cui lui ci prendeva ci buttava fuori anche qui vedete che il risk reward in questo caso che sarebbe stata un'entrata qui lo duplico con un target che andava in trailing stop qui praticamente si andava a prendere un 1 a 1.90 circa un 1 a 2 di risk reward in trailing stop quindi molto molto interessante e poi c'è l'ultima cancello questo se non facciamo confusione eccolo qua e poi c'è l'ultima che è praticamente questa che vedete qui che è quella che vi ho detto che da un punto di vista strutturale era quella meno tradabile già di suo però se vogliamo andare a cercare comunque delle conferme che ci possano indicare questo guardate non ci sono mai state conferme questa è l'estensione della pin bar quindi da qui di questo massimo a qui di questo minimo scusate eccolo qua vedete che nel momento in cui lui sale non abbiamo intanto nessun segnale di trading ma nemmeno un aumento di volatilità al ribasso un qualcosa che ci conferma il fatto che il mercato non è pronto a salire ma era pronto a scendere invece al contrario proprio tra l'altro con questa barra qui come potete vedere questa qui con la freccina questa aumenta la volatilità rialza infatti poi la pin sarebbe andata stop e comunque questo quindi vedete come è molto interessante molto efficace andare a operare con delle conferme di dinamica quattro ore noi nel platino facciamo principalmente questo tipo di cose e quindi questo permette ripeto di avere un risk reward sicuramente migliore e con la conferma avere quindi un ratio tra profit e loss quindi tra costi del trading e ricavi molto a favore dei ricavi noi facciamo price action quindi non abbiamo nulla su grafico aree e prezzo ok questo è un po la situazione se volete quindi seguire un pochino tutte queste dinamiche tutti questi queste riflessioni come facciamo costantemente in trading room e che cerchiamo di condividere di trasmettere un po alla volta vedo che i nostri cari platinum tra l'altro siamo sempre di più e questo mi fa molto piacere stanno molti di loro stanno imparando bene e quindi questo è sicuramente una grande soddisfazione io direi che per oggi è tutto ci vediamo i prossimi video come avete visto gli ultimi video sono tutti molto operativi riguardanti le pinbar un saluto a presto ciao